Una tragedia che ha scosso tutta la comunità pescarese. L'incendio verificatosi nella serata di ieri all'interno di una delle strutture del complesso sanitario della clinica Villa Serena di Città Sant'Angelo, dove si trova la residenza per pazienti psichiatrici, ha causato la morte di due uomini di 51 e 63 anni residenti a Vasto e Rocca Montepiano ed entrambi con problemi di deambulazione. I due imprigionati nella stanza invasa dal fuoco e dal fumo non hanno avuto praticamente scampo. Il pronto intervento del personale sanitario e dei soccorritori ha poi permesso di evitare un bilancio ancora più grave con una terza persona salvata e una settantina di degenti evacuati per precauzione. Dopo il primo intervento della serata di ieri, questa mattina sono iniziati i rilievi tecnici dei carabinieri e dei vigili del fuoco per ricostruire l'accaduto e capire se le cause dell'errogo siano state accidentali o dolose. Ascoltato anche il personale sanitario presente ieri sera al momento dell'incendio, la procura di Pescara ha aperto un'inchiesta tra i primi ad accorrere presso la clinica Villa Serena il sindaco di Città Sant'Angelo, Gabriele Florindi. Un dolore di tutta la comunità e soprattutto anche perché è accaduto all'interno di una eccellenza che abbiamo in Abruzzo che è Villa Serena, tant'è che ho trovato subito anche presente la titolare della clinica insieme a tutti i suoi collaboratori. Un plauso va fatto come al solito ai vigili del fuoco, all'arma dei carabinieri che subito ha messo sotto controllo tutta la situazione ma anche i dipendenti e la dottoressa hanno da subito sistemato anche i degenti su un'altra zona. Un fatto increscioso che non doveva accadere, il mio cordoglio va alle famiglie dei due deceduti, da subito è stato salvato il terzo che occupava la stanza ma anche il fatto che non sia accaduto nessun tipo di persona che sia rimasta ferita, anche perché abbiamo a che fare con un certo tipo di degente, non è a che fare con persone coscienti o persone capaci di intendere e volere, eravamo in un reparto molto molto delicato. La mia idea è che ci sia stato un incendio indotto dalla tipologia di paziente perché la struttura è efficiente, la struttura è agibile, tutte le superlettere sono ignifughe e quindi evidentemente non si tratta né di cortociscuita né di altro, ma bensì noi sappiamo che la patologia di questi pazienti è quella che fanno abuso di fumo, hanno in mano accendini e quindi purtroppo hanno potuto in qualche maniera anche loro tra di loro a peccare il fuoco. Però ripeto, questa è una mia personale cosa perché ci sono gli inquirenti che fanno il loro mestiere e lo fanno meglio di me.